Sulla pista naturale salina dello stato mormone, il noto pilota automobilistico americano Jenkins è riuscito a segnare le 168 miglia orarie sul percorso di 1000 miglia, prima dell'incidente che, per questa volta, ha troncato il suo tentativo di battere i primati di velocità e resistenza delle 24 e delle 48 ore. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS